Da un po' di tempo qui in redazione di Antenna 2, quando predisponiamo per il nostro Mani Nobiscum, si sta creando un po' di subbuglio sui titoli addirittura da dare alla rubrica, che poi non sono la cosa fondamentale per carità, come un libro il titolo non è necessariamente la cosa fondamentale, però a volte ha un suo significato e deve avere anche una sua caratteristica, deve caratterizzare un po' e a volte anche un po' acchiappare l'attenzione, quando uno va in libreria a volte prende un libro perché il titolo gli suggerisce qualcosa di simpatico o di attraente. E allora oggi, vista un po' anche del Natale, perché giustamente non possiamo non dare uno sguardo a questo momento grandioso e forte della vita cristiana e del nostro anno liturgico, anche perché credo che in un modo o in un altro tutti sono coinvolti in una realtà come quella del Natale. E allora qui veniva appunto la domanda che abbiamo messo questa volta come titolo il bambino nasce prima? Potremmo mettere il punto di domanda, qualcuno mette il punto esclamativo, addirittura il nostro regista Vladimir suggeriva ma il bambino nascerà? E beh, su questo qui spero proprio che ci giochiamo addirittura la credibilità, anche perché poi diciamocelo subito, celebriamo il Natale, non perché Gesù Cristo debba tornare a nascere, perché Gesù Cristo storicamente accertato è nato duemila anni fa, quindi il bambino è già nato. Probabilmente il punto di domanda sul nascerà riguarderà, e magari di questo dovremmo occuparci, se noi siamo pronti ad accoglierlo, se effettivamente trova qualcuno che gli apra la porta, se accanto a Giuseppe e Maria c'è qualcuno che partecipa della bellezza di questo evento come è accaduto ai tempi appunto della Natività di Gesù, dove i pastori sono accorsi, gli angeli hanno cantato eccetera. Però una domandina appunto a Don Giovanni, che è con noi oggi parroco e quindi anche lui partecipe di questo trambusto delle domande, il bambino nasce prima, nasce dopo, tutta sta polemica sugli orari cosa te ne penso? Beh, prima di tutto è bello Don Leone che hai già detto che nasce un bambino, perché per qualcuno nasce un panettone, nasce un torrone, nasce un Natale rosso, un Natale arancione, un Natale bianco, un Natale chissà cosa nasce, se nasce un elefante o se nasce una fiera o se nasce una sciata, ecco nasce un bambino. Noi ricordiamo la nascita storica, perché poi ricordiamo a volte anche la seconda nascita a cui più nessuno pensa che è la venuta finale e poi la più importante è la nascita quotidiana, cioè che il Signore in ogni tempo, dice la liturgia e con ogni persona, vuole stare con Lui. Solo che ecco, dobbiamo puntare proprio gli occhi su questo bambino che la sua nascita prima di tutto non è una fiaba, ma è un mistero. Betlemme c'è ancora, l'imperatore Cesare Augusto c'è stato, Erode, ne parlano, i sommi sacerdoti Anna e Caifa c'erano, Giuseppe e Maria, quindi non è una fiaba da rivestire così o farci anche delle barzellette sopra, ma è un mistero testimoniato, vero, storico, di fronte al quale ogni uomo deve interrogarsi e sentendo anche gli orari, non orari, perché di un personaggio dell'antichità non c'era né ora, né giorno, né anno, perché i poveri non venivano annotati, anzi il Natale nella Chiesa hanno cominciato a festeggiarlo nel V-VI secolo, perché prima la cosa più importante è che Gesù era morto ed è risorto, perché dei bambini ne nascono tanti, ma quello è il Figlio di Dio, è la nostra speranza. Ecco perché noi ci troviamo poi di notte, e a proposito la Chiesa ha sempre celebrato quattro sante messe, la messa vespertina o della vigilia del Natale, la messa nella notte, non si sa che ora perché la notte è silenziosa e Dio ama il silenzio, che siano poi le sette di sera o le cinque del mattino, poi la messa dell'aurora e la messa del giorno, quindi semmai tutti questi cristiani che discutono sull'ora, ma partecipano a quelle quattro sante messe, perché il posto più bello, la grotta più bella è proprio l'altare, è lì che nasce il Signore per stare con noi. Ecco mi fa piacere che Don Giovanni in modo intelligente sorpassa il discorso dell'orario e accenna, si dice nella notte, anche per quanto riguarda la famosa messa di mezzanotte, per carità ha una tradizione, chissà che potremo riprenderla, ha un suo fascino per carità, ci mancherebbe, però appunto giocare poi e discutere sull'orario come se fosse il fatto fondamentale, diventa veramente questo sì, una barzelletta attorno a un evento invece che barzelletta non è e tantomeno è favola, ma è un evento storico da celebrare proprio perché come dicevi ci ricorda che il Signore è con noi. Peraltro pensavo proprio un po' in questi tempi in cui stiamo un po' tenendo i rapporti con tutte le religioni, tra di noi anche tante persone di altre forme religiose, per carità, se sono nella verità della ricerca personale eccetera, tutto da rispettare le persone e anche le forme religiose, però qui viene fuori l'originalità del cristianesimo. Non diciamo perché quello che sta succedendo è un po' questo, che dentro questo rispetto vicendevole, almeno speriamo che sia vicendevole perché così sempre non è se guardiamo i cristiani che nel mondo vengono ammazzati e incarcerati per la loro fede, quindi non c'è sempre molta reciprocità, dobbiamo dirlo, però tanti anche da noi dicono ma allora tutte le religioni allora sono uguali, vanno bene tutte. Mi pare che qui tocchiamo invece l'originalità unica veramente del cristianesimo. È davvero, a parte anche le altre cose, ma qui facciamo un esempio. Tutte le altre religioni sono gli uomini che vanno a cercare un qualunque Dio e tanti se lo inventano anche un po' a secondo la loro cultura, il loro modo di ragionare. Qui ha ragione Mars quando diceva che sono gli uomini che hanno inventato Dio e naturalmente questo Dio ha inventato loro e l'oppio dei popoli. Noi siamo originali e diciamo che è Dio che è venuto a cercare noi. Si è fatto carne, cioè ha preso la dimensione umana, si è fatto compagno dell'uomo. Ecco la differenza, non siamo andati noi a rompere il cielo, ma è lui che ha rotto, si è tolto il velo, rivelazione, per farsi vedere da noi e non per un giorno. Pensa, per stare sempre con noi perché un amico, vabbè, o lo sopporti o lo ascolti un po', poi dice casato, no? Questo qui è venuto per restarci sempre. Quindi basterebbe dire che quando tu vai in una chiesa c'è un tabernacolo, lì dentro c'è quel bambino, quell'uomo che è Dio, che è il tuo compagno di viaggio, che è veramente la risposta alla tua vita. Quindi praticamente è la storia più sorprendente in effetti che nessuno avrebbe potuto immaginare. Soltanto Dio poteva avere questa fantasia di dire vado io tra di loro, divento uno di loro per poter essere con loro e accompagnarli e noi diciamo nasce il Salvatore, cioè colui che ci aiuta da una parte ad aver la forza di uscire da quella radice di male che è dentro di noi, questo inquinamento della storia che è il peccato in tutte le sue forme e dare senso alla vita e dare anche un orizzonte certo alla vita, non soltanto un'immaginazione sperenche che sia svergot, sperenche dopo. Il Signore Gesù con la sua resurrezione poi ce lo garantisce di questo orizzonte. Direi che siamo dentro veramente e celebriamo un'avventura in cui se vogliamo siamo coinvolti perché Dio appunto si è fatto non tanto vicino ma uno di noi addirittura. In questo senso qui abbiamo insieme con le tradizioni, per carità ed è bello, noi abbiamo i Vangeli cosiddetti apocrifi che colorano un po' in effetti questo fatto anche della natività di Gesù. Però noi abbiamo dei Vangeli, due in particolare, che invece ci raccontano dal vivo con qualche pennellata anche lì che ci sta per carità di colore ma nella sostanza questo accadimento della nascita di Gesù. Basterebbe, ma poi anche la bellissima riflessione di Giovanni quando dice che il verbo, cioè la parola di Dio, il progetto di Dio mai visto, è diventato carne visibile da noi attraverso quella persona lì. Addirittura dice che ha posto la tenda in mezzo a noi, cioè si è fatto compagno di viaggio e il grande Sant'Agostino diceva che c'è un ammirabile commercio, un affare grande. Dio è diventato uomo perché l'uomo possa diventare Dio. Quindi tante volte diciamo Gesù il Salvatore. Oggi dice basta avere il portafoglio pieno, mi salvo da solo e se c'è la neve mi salvo. Ecco l'uomo dice peccati non ce ne sono più, forse capiterà anche a te, vengono a confessarsi, al su mie cosa dica, più bravo di me. Allora poi quelli che vanno più avanti dice robato mi ha robato, corre nella forna che io mi faccio, fai lui. Ma qui questo peccato è che l'uomo è schiavo della morte. Ecco perché Gesù è Salvatore, perché noi siamo una manciata di polvere e da questo destino fallimentare ci tira fuori solo lui. Ecco perché è Salvatore, ci salva da un destino fallimentare. Quindi dobbiamo tenerne conto, ecco il senso, veniamo da lui, torniamo da lui, se stiamo con lui. È davvero un grande affare, ci cambia la carta d'identità scrivendoci figlio di Dio, non più solo, non so, figlio del tale, della tale, abitante a Torre Bordone, ma figlio di Dio destinato al paradiso, figlio destinato al paradiso. Cambia tutto e quindi bisogna guardarlo bene quel bambino lì. Ecco insieme quindi a questa, che è poi l'essenza, il Vangelo ce ne parla, la liturgia lo celebra, diciamocelo sempre la bellezza proprio per uno sguardo anche visivo che fa bene la faccenda del presepio. Io resto sempre del parere che nelle case, fuori dalle chiese, non solo dentro, in certi angoli del paese, eccetera. Vedere anche un po' rappresentato. Anche perché poi la fantasia anche lì gioca, ma gioca bene. Gioca bene perché ti mette in evidenza anche delle dimensioni che magari non saranno state proprio così al tempo in cui la faccenda è avvenuta, ma che danno e danno una lettura, forse diremmo anche teologica, come solo i semplici sanno fare. E il Vangelo nella sua semplicità dice veramente tante cose che forse parlano più delle parole. È vero, il presepe non solo edificato per dire come sono bravi, quante belle luci, ma guardando quei personaggi, cominciando da Giuseppe e Maria, due persone, un giovane e una ragazza che vivono facendo la volontà di Dio, uno deve dire ma qual è la volontà di Dio su di me. Poi hanno messo dentro, guardando i profeti, anche un bue, un asino, e c'è scritto guarda che il bue conosce la greppia dove deve andare a mangiare e l'asino conosce il suo padrone. Tu uomo non conosci il tuo Dio. Difatti siamo nel 2020, gente super laureata che governa, traffica, non sa niente di Gesù, non sanno niente. E quindi il bue è l'asino. I pastori che dicono la cosa più importante, andiamo a vedere, andiamo a seguire e poi tornano testimoniando quello che hanno visto, anche noi andiamo. Poi ogni giorno siamo in missione speciale. Dire agli altri dov'è che posiamo la nostra vita. Anche gli stessi angeli, che adesso poi hanno cambiato anche le parole in italiano, ma in lingua aramaica sono uguali, o no? Pace in cielo, gloria in cielo e pace agli uomini amati dal Signore. Cantano gli angeli ed è molto bello anche tutta questa coreografia, senza poi l'aspetto così artistico, musicale e tutto questo che hanno creato, che deve però dirci, se queste sono le persone, se questo ho rappresentato, io dove mi metto lì dentro? Che atteggiamento ho? Quindi è bello a volte si sentiva dire che qualcuno pregava di fronte al presepe, tutti i giorni spostava le statuine per avvicinarle al centro, tutte le sere, qualche passo in più, già messo dentro anche i magi perché cercano la verità, ha cominciato a camminare. È un presepe, non solo quindi opera artistica, ma vita da vivere. Anche perché tu accennavi al fatto appunto che in fondo sono i semplici, che sono accorsi, che hanno capito e che poi hanno annunciato. Viene in mente quella frase di Gesù quando ringrazia il Padre, ti ringrazio Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapientoni di questo mondo che quindi si impancano, che quindi rischiano l'orgoglio anche della vita e la superbia della verità e le hai rivelate ai piccoli. Quei piccoli che non sono necessariamente, lo sappiamo, solo i bambini piccoli, ma è quella piccolezza dell'animo che dice la grandezza poi dell'animo di chi è aperto al mistero di Dio nella vita. Credo che questo ringraziamento di Gesù ci stia proprio per aiutarci, l'Avvento ce lo ricorda, ad essere gente che attende, che cerca, ma che cerca appunto con animo aperto perché il Signore si svela ai semplici. Ma è vero perché è semplice. Se tu magari in questi giorni metti un bicchiere sul tavolo, ci versi lo spumante, quando è pieno esce, esce lo spumante, esce il vino. Così anche l'uomo, quando è pieno di se stesso, dei suoi concetti, neanche prende in considerazione che ci possa essere una verità diversa e questa verità che ti riempie la vita. Quindi a volte bisogna anche svuotare quel bicchiero che è fatto di superbia, di odio, di vanagloria per dire Signore riempimi della tua umiltà, della tua saggezza, fa che io ti abbia ad accogliere. Però probabilmente la prima cosa che devo fare è rendermi disponibile, anche io un po' più semplice, un po' più disponibile ad ammirare il mistero perché noi uomini abbiamo anche un grave difetto che ci abituiamo a tutto. Ci abituiamo che al mattino viene il sole. Pensa se una mattina ci fosse tutto nero, cosa ci sarebbe nel mondo? Quindi non abituiamoci a questo stile di Dio, cerchiamo di entusiasmarci e di imitarlo. Tra l'altro qui nella natività di Gesù il Figlio di Dio si manifesta non solo l'umiltà del nostro Dio, ma anche lo stile poi di sempre con cui lui si avvicina a ciascun uomo ed entra nella storia. Lo stile manifestato in Dio che si fa bambino, quindi che ha bisogno praticamente di tutto, ma quello stile che dirà anche dopo e nel corso della storia e della vita della Chiesa che lui non si manifesta necessariamente in scenografia ma nell'umiltà. Mi fa piacere ricordarlo andando quasi a chiudere quella rappresentazione che c'è a Greccio, là dove San Francesco ha fatto, come sappiamo dalla tradizione, il primo presepio vivente, diciamo. C'è una bellissima raffigurazione dove c'è San Francesco che sta inchinato davanti al bambino che è nato e sopra c'è un sacerdote che sta celebrando nel segno del pane e del vino l'Eucarestia. Quel Dio che si è fatto umile bambino è ancora quel Dio che si fa talmente umile da farsi presente e da nascondersi nel segno semplice del pane e del vino. Anche qui ci vuole veramente un cuore aperto per accoglierlo. È bello questo rimando al fatto che la storia che celebriamo nel Natale la possiamo riaccogliere sotto forma sacramentale diversa anche oggi ma con un Dio che non cambia stile. È vero, lì un sorso di vino, un pezzo di pane, ma pensa, non ha scelto sua madre Miss Mondo e neanche, diciamo così, il più grande industriale di allora, Giuseppe Unfalegname. Poi quando si sceglie gli apostoli, brava gente però, pescatori, gente che trafficava le bustarelle come Matteo e roba del genere, e poi in un popolo che vuol dire polveroso ebreo, cioè non erano i romani che avevano le falangi, i greci, la cultura, gli egiziani, le piramidi, gente semplice. È lo stile di Dio, è lo stile della mascella d'asino per sconfiggere un esercito. Cioè praticamente Dio si serve di cose umili e semplici e dobbiamo metterci dalla sua parte per poter portare avanti oggi anche il mondo, non le cose altisonanti, ma scoprire quei piccoli semi che il Signore oggi mette anche nel mondo, anche in questa pandemia, dice quali sono i semi che ci sono dentro per non perdere l'occasione di creare qualcosa di bello, di valido per l'umanità. Ecco al Natale, c'è scritto appunto nel Vangelo di Giovanni, è venuto nella sua casa, i suoi non l'hanno accolto. A chi però lo accoglie ha dato il dono più grande di poter essere figli di Dio. Come dicevi Giovanni, Dio si fa uomo perché l'uomo sia innalzato alla dignità divina. Quello che ha scombinato il primo uomo volendo diventare come Dio con le sue energie, Gesù lo realizza in coloro che nell'umiltà lo accolgono con cuore aperto e sono certi che in lui si realizza questo antico sogno di essere all'altezza di Dio, di essere elevati addirittura alla dignità di Dio dove la vita ha veramente senso nel tempo ed è proiettata addirittura in una buona eternità. E allora Don Giovanni, grazie a te, grazie a tutti quelli che ci seguono, grazie ad Antenne 2, due che sempre ci accompagna in questo nostro proporci tra di voi ogni fine settimana, ma naturalmente stavolta l'augurio più cordiale di un buon Natale, di un buon Natale nonostante perché il Signore abita tutte le situazioni e ci aiuta anzi a portarle con maggior serenità e con tanta fiducia. Buon Natale a tutti!